Musica Buongiorno e ben ritrovati amici di Fano TV Quest'oggi siamo presso la cooperativa Tre Ponti, località Chiaruccia Fano dove ci sarà il collegio dei periti agrari e laureati nelle marche Ci sarà un tavolo tecnico, si discuterà della gestione del rischio dell'impresa agricola dei nuovi ordinamenti comunitari e il nuovo fondo AgriCard per la gestione del rischio ambientale L'agricoltore è un lavoro fatto di passione, dedizione e come tutti i lavori sono soggetti a dei rischi, rischi di mercato, rischi dell'offerta, della domanda sempre in forte globalizzazione ma a differenza di altri lavori il fattore meteo diventa un jolly a volte complice, a volte carnefice di una gestione di un lavoro Il 94% del territorio nazionale è esposto a una fragilità calamitale un lavoro di sinergie sul tavolo dell'incontro voluto dal presidente Stefano Bartolucci del collegio territoriale periti agrari e laureati nelle marche Al centro della discussione è il perito una professione, una figura tecnica al centro dello sviluppo e delle innovazioni di agricoltura non solo un ruolo tecnico ma anche sociale in un contesto imprenditoriale sempre più sussidiario con l'obiettivo di dare anche una giusta risposta ai tanti giovani che vedono nell'agricoltura nuove prospettive di impiego un nuovo modo di condividere idee e lavoro per creare soluzioni stabili a supporto di un settore con opportunità e problematiche sempre più globalizzate Quali sono la strategia messa a punto dal PAC 2023-2027? La strategia che riguarda la gestione del rischio in agricoltura è quella di cui mi occupo e di cui posso riferire più compiutamente si avvale di tutta l'esperienza del precedente periodo di programmazione 14-22 perché poi c'è stata una proroga di due anni e quindi su quel solco è stata organizzata tutta l'attività di prevenzione del rischio e di gestione del rischio anche a valle degli eventi purtroppo quando capitano e questi giorni ne abbiamo di veramente pesanti La gestione del rischio è una gestione che si avvale prevalentemente per il futuro dei fondi per la mutualizzazione e il corpus più importante è quello dell'assicurazione sugli eventi e sui rischi delle produzioni agricole dalla grandine storica fino alla siccità fino agli altri eventi fondi di mutualizzazione che completano il pacchetto degli interventi per cultura o per eventi fitopatologici o particolari di alcune culture e poi la grande novità è quello del fondo catastrofale di cui oggi ci parlerà il rappresentante dell'ISMEA che è sicuramente anche qui un completamento di qualcosa che mancava perché nei grandi eventi siamo abbastanza disarmati perché le garanzie non si riescono a coprire con i gestori privati con le assicurazioni private perché è difficile e oneroso per loro e quindi non si ha mai una copertura piena e in questo caso c'è l'intervento dello Stato che consentirebbe di poter venire incontro a questa tipologia di danno anche se magari il profilo non potrà essere quello risarcitorio completo poi ci sono tutta una serie di interventi sulla PAC che riguardano la prevenzione del rischio che continueranno ad essere effettuati noi abbiamo già avuto come Regione Marche delle esperienze su accordi agroambientari ed aria per la prevenzione del dissesto etrogeologico vedremo poi nel futuro se implementarli e migliorarli nella loro esecuzione e poi abbiamo avuto anche degli esempi di interventi spot ad esempio sulla noplofora che sarebbe il tarlo asiatico diciamo degli interventi per riuscire a mitigare e ridurre gli effetti di questo parassita che diciamo mette a rischio molto le produzioni vivaistiche e poi abbiamo avuto degli interventi sulla PSA sulla peste suina africana, sugli allevamenti suini e sempre misure di prevenzione per evitare che questo si rifonda e diciamo attecchisca nel nostro territorio finora questi sono gli stati strumenti che abbiamo messi in campo ma se ne possono chiaramente modellare altri per tutte le esigenze di far bisogno il PSR, Piano Strategico Nazionale Italiano sulla PAC Politica Agricola Comune è stato approvato lo scorso dicembre dopo un lungo confronto con le istituzioni in vigore dal 1 gennaio 2023 comprende una serie di misure di finanziamento a sostegno del settore agricolo Dottor Ruffini, oggi la scuola e l'università sono in grado di garantire e offrire strumenti e competenze per essere presenti e a gestire le condizioni climatiche e tutto il settore che oggi è messo abbastanza alla prova? Allora, diciamo che le scuole sia le superiori che le università stanno facendo il massimo per informare e formare i giovani che entreranno nella consulenza dell'agrioltura ovviamente l'evoluzione non solo di mercato non solo ambientale e climatica purtroppo c'è bisogno di molta esperienza la scuola sta facendo saldi mortali le università molte hanno molta esperienza altre giovani un po' di meno però secondo me il percorso che si è intrapreso è importante e porterà di buon auspicio Quali sono le competenze che oggi deve avere un perito agrario? Le competenze di un perito agrario? Allora, un perito agrario soprattutto Dottor Agronomo diciamo che sono molto ampie vanno dalla gestione dell'azienda agricola non solo dal punto di vista tecnico ma anche economico, finanziario fino a gestire il verde urbano, il bosco e quant'altro per cui un consiglio che noi stiamo dando come ordine è quello di dare una professionalità a se stesso cioè una specializzazione Io come dottor Agronomo potrei fare da una semplice gestione aziendale dal punto di vista tecnico e meccanico fino a quello dell'estimo fino a quello gestionario e amministrativo oppure potrei fare addirittura gestire un parco pubblico oppure un bosco è troppo ampia la nostra, diciamo, mansione però da un lato è positivo per chi ci aumenta le competenze da un altro è nostra serietà professionale, individuale nell'intraprendere un percorso che a noi ci non compete che ci piace di più e portarlo avanti in modo serio a 360 gradi Le quattro parole chiavi del PAC si utilizzano l'approccio italiano 2023-2027 equità, sostenibilità anche sociale sviluppo locale e innovazione La Commissione Europea ha dato delle linee guida generali sulle somme anche sui fondi da attingere per il discorso prevenzione queste situazioni catastrofali La Regione Marche come si muove in merito a queste linee di tendenza? Sì, sono stato delegato dall'assessore Antonini all'agricoltura e diciamo che ancora è aperta la finestra del settennio europeo precedente che arriverà fino al 2024-2025 ma ci sono importanti novità per il settennio che parte già dal 2023 e termina nel 2027 per quanto riguarda le misure soprattutto la misura 17 e nello specifico la misura 17.1 che va incontro agli agricoltori quindi a tutte le aziende agricole i fatti anche di tutti i giorni perché oramai ci stiamo abituando purtroppo a questi eventi calamitosi come l'alluvione dell'Emilia Romagna ma noi come Marche abbiamo subito anche la settimana scorsa delle grandinate improvvise che hanno rovinato tante aziende agricole della nostra regione Marche rispetto a una volta e anche quello che chiedevano le aziende agricole dove il pubblico quindi lo Stato tramite le regioni subentrava ex post per ripagare i danni che le aziende subivano il futuro che è già attuale e il fondo Agricat è proprio una novità importante nel nuovo settennio è quello di aiutare attraverso un'assicurazione non costi troppo la regione attraverso questi fondi europei dà un sostegno importante alle aziende agricole riusciamo a far sì che attraverso le assicurazioni che purtroppo in passato e ancora oggi non coprono ad esempio questi eventi calamitosi ma dovremo lavorare per far sì che questi eventi che non sono purtroppo più eccezionali ma sono di fatto ordinari vadano in supporto delle aziende agricole che in alcuni casi si ritrovano in base naturalmente all'azienda agricola ad avere migliaia se non centinaia di migliaia o addirittura milioni di euro di danni quindi questo è il futuro direi già da oggi noi come regione Marche attraverso appunto l'assessore Antonini tutto il servizio agricoltura stiamo incontrando ad esempio i periti agrari che sono una figura fondamentale di supporto anche nostra a livello amministrativo quindi la giornata di oggi è un buon punto per vedere quello che è stato fatto e quello che dobbiamo fare per migliorare per dare un servizio migliore a tutte le aziende agricole il fondo AgriCart è lo strumento di gestione del rischio il nuovo fondo mutualistico nazionale potrà contare su una somma di 350 milioni di euro all'anno tra fondi comunitari e nazionali da utilizzare per esarcire le imprese che subiranno danni alle produzioni a seguito di eventi climatici di carattere catastrofale nel corso del 2023 Siamo in compagnia del Presidente Stefano Bartolucci Presidente del Consiglio dei periti agrari e laureati nelle Marche Presidente questo incontro oggi arriva proprio a risposta di un grandissimo cambiamento climatico che mette un po' in ginocchio il settore agricolo e l'incontro ha proprio come tematica la gestione del rischio dell'impresa agraria Sì non poteva purtroppo esserci un periodo migliore per poter affrontare questo tema un tema che interessa noi professionisti noi periti agrari e interessa soprattutto le imprese agricole chiaramente i cambiamenti climatici sono ormai in atto non sono io che lo fermo ma è tutta la comunità scientifica che ci sostiene che dobbiamo purtroppo abituarci ed adeguarci a questi cambiamenti noi non abbiamo un territorio pronto per queste nuove sfide perché non siamo non siamo pronti né per i processi di desertificazione dovuti alla aridità non siamo pronti neanche per queste piogge intense e sempre sempre più frequenti quindi il problema qual è? il problema è riuscire a difendere le aziende da questi rischi questi rischi che mettono a rischio sia le produzioni e sia i bilanci aziendali ecco la politica agricola comune nel periodo 2023 2027 quindi nel periodo futuro andrà a mettere in atto degli strumenti adeguati per poter difendere le aziende da questi rischi sono metodi di difesa attivi e metodi di difesa passivi come metodi di difesa attivi abbiamo contributi alle aziende per impianti strutturali reti antigrandine canali di scolo progettazione di laghetti mentre i metodi di difesa passivi sono contributi agevolati su polizze assicurative o dal 2023 partirà anche questo nuovo fondo agricato ecco il cuore di questo convegno è proprio parlare di questo nuovo fondo che sarà a favore delle aziende dal 2023 un fondo alimentato costituito da Ismea ed alimentato da soldi e contributi prelevati dalla PAC di tutte le aziende questo fondo andrà a coprire le calamità catastrofali come penso siano le calamità che sono accadute in questi giorni e sarà a favore appunto di tutte le aziende noi quindi oggi dobbiamo con questo incontro che è formativo per i tecnici e informativo per le aziende dovremo cercare di capire che cos'è questo fondo come verrà amministrato in futuro come le aziende possono aderire e quali saranno gli effetti poi sulle coperture dei rischi aziendali e quindi di conseguenza sui bilanci sulla tenuta dei bilanci delle imprese agricole purtroppo l'agricoltura è un'attività a cielo aperto rimarrà rimarrà così quindi ogni azienda ogni impresa ogni imprenditore oggi ha il timore appena vede una nuvola purtroppo ha il timore che possano accadere questi questi disastri ambientali con una frequenza purtroppo sempre maggiore solo nell'anno scorso abbiamo raggiunto il record assoluto dalla storia di 50 anni di attività con un 40% in più di valore assicurato solo il nostro consorzio altrettanto avrà fatto anche l'altro di Ancona e Macerata quindi diciamo che la sensibilità al ricorso assicurativo c'è stato ma c'è stato grande grazie anche allo sforzo di informazione di formazione e quant'altro che cos'è l'ISMEA e quali sono le sue funzioni principali? l'ISMEA è un istituto nazionale del Ministero della Sovranità Alimentare dell'Agricoltura e delle Foreste destinato a produrre servizi per il settore agricolo in tre quattro ambiti di grande importanza che sono quello finanziario creditizio quello assicurativo ecco la gestione del rischio di cui parliamo oggi e quello fondiario nel supporto alle aziende agricole per aumentare la dimensione aziendale e nel rinnovo generazionale sui giovani agricoltori più anche altre attività di diciamo supporto ai decisori politici a livello nazionale e regionale per le scelte di politica agraria questo in estrema sintesi è l'ISMEA oggi più spesso si sente parlare in Italia di gestione del rischio in ambito agroalimentari che cosa significa in termini tecnici e soprattutto economici la gestione del rischio è un termine un po' lontano magari dall'idea dell'agricoltore o del cittadino in senso stretto perché è qualcosa di astratto molto più concretamente è dire in altre parole la nostra produzione che seminiamo ora la riusciremo ad ottenere questa è la domanda che sta dietro a gestire quali rischi io azienda devo sopportare bene le aziende agricole sono aziende a cielo aperto a differenza di altri settori che sono come dire più tutelati dalla struttura proprio produttiva e quindi a cielo aperto è sottoposta a rischi climatici tra cui le avversità che viviamo purtroppo sempre più estreme e frequenti ma anche di alta natura pensiamo alla zootecnia con i rischi sanitari quelli cosiddetti anche di epidemie di vario genere eccetera e poi c'è che c'è il mondo agricolo sulla più di alto il rischio di mercato cioè dire il crollo dei prezzi per fattori nemmeno ambientali ma di natura eminentemente finanziaria quindi qual è il valore che lei chiedeva in termini economici beh se l'agricoltura in Italia oggi ha una produzione di valore di circa 60 miliardi di euro all'anno mediamente i rischi che le aziende subiscono sono un 20-30% di questo valore cioè l'Italia perde dai 5 ai 6 ai 7 miliardi all'anno per rischi non gestiti questo è un costo che non possiamo permetterci e che le aziende agricole non possono permetterci perché sennò vanno in deficit e questo è il motivo per cui esiste una politica che cerca di contrastare questi danni questi rischi per cercare di ridurre questa diciamo tassa aggiuntiva che purtroppo tutti pagano per effetto di una mancanza di capacità di gestire un evento estremo ad esempio Lei è una formazione agronoma quali valori le ha trasmesso i suoi studi? Il settore sono lavorato in scienze agrarie sono agronomo sicuramente la capacità di realizzare concretamente cosa vuol dire gestire una cultura un'azienda agricola e quindi il contatto col territorio innanzitutto e quindi soltanto dall'esperienza reale può nascere poi anche in ambito politico o anche gestionale la capacità poi di dare degli indirizzi concreti e realmente come dire utilizzabili delle imprese qualcosa di legato alla realtà e non di estratto l'agricoltura poi in più è diventata sempre più un bene pubblico cosiddetto non è più solo un fatto imperitoriale privato abbiamo visto durante il lockdown è stato l'unico settore che ha retto in qualche modo la vitalità delle famiglie ancorché chiuse in casa è un settore che chiaramente è necessario e strategico per il nostro paese e quindi posso dire che grazie a questo tipo di studi ho potuto dare come dire mettere a disposizione quella che è l'esperienza che ogni agronomo ma anche perito agrario tutto il ramo agricolo può dare nella formazione di quello che è un aumento della capacità del nostro paese di stare sul mercato internazionale il rapporto con il mondo agricolo è anche questo un rapporto stretto cementato nel tempo negli anni in una storia che ormai è più che centenaria e quindi è per noi un settore al quale teniamo particolarmente vi do solo un numero noi a fine 2022 abbiamo fatto 180 milioni di impieghi di questi di 180 milioni il 15% di impieghi alle imprese sono impieghi verso il settore agricolo questo numero da solo vi dà l'importanza del settore agricolo per la nostra banca è nostra intenzione continuare a portare avanti questo rapporto e gestire il rischio nelle imprese agricole è importante è importante per l'imprenditore agricolo io aggiungo l'autobanca che è importante anche per la banca perché questo aiuta a sostenere il settore perché le coperture assicurative le protezioni da questo punto di vista consentono alla banca anche di avere impatti patrimoniali inferiori e quindi è uno stimolo in più per continuare a sostenere questo settore quindi per noi è importante come lo è per voi per tutto il settore agricolo dottor Orsini entriamo più in merito nel suo lavoro di che cosa si occupa io in questa figura sono un rappresentante della categoria dei periti agrari per i periti reati in particolare per la categoria mi occupo anche della gestione del rischio vista dal lato dell'attività peritale pertanto tutta l'attività di formazione coordiniamo dei colleghi che intervengono quali periti in ogni fondo assicurativo che sia la polizia assicurativa che sia agricat che sia fondo in motorizzazione quindi ogni volta che c'è un risarcimento di danno interviene un professionista questi deve essere un iscritto all'albo o all'ordine dei dottori agronomi all'albo dei periti agrari per i laureati e all'albo dei geometri queste sono le tre categorie che possono effettuare queste attività peritali pertanto debbono essere iscritti in regola con la previdenza con la formazione continua quindi garantiamo la qualità dei dei periti inoltre il nostro collegio ma anche gli altri si occupano di formazione facciamo circa raggiungiamo oltre mille persone mille colleghi all'anno tutti gli anni in varie città in varie istituti agrari di tutta la penisola quindi facciamo tutta una formazione specifica perché comunque il lavoro è complesso molto complesso riguarda tecniche agronomiche tecniche in parte anche legali perché è peculiarità di questo settore essere il perito è liquidatore oltre che perito quindi oltre che fare la perizia determina il risarcimento quindi il nostro elaborato peritale finale porta una quantità di denaro che può essere addirittura portato in banca per essere scontato quindi un rapporto fiduciario molto un rapporto è molto fiduciario quindi è evidente che le compagnie o i fondi fondi agricati ripongono una fiducia mettono in mano il portafoglio per essere insomma per usare un esempio e quindi è evidente che c'è tutta una ricerca della qualità sia tecnica ma anche morale del professionista che in qualche maniera surroga in questo caso per esempio per la compagnia ha a disposizione la liquidazione quindi i numeri sono alti non so se avete seguendo il convegno avete visto che parliamo di diversi miliardi di produzione assicurata ogni anno che possono essere liquidati a 0 a 100 quindi un perito può liquidare in un giorno anche un milione un milione e mezzo di euro a varie aziende nella giornata quindi è un'attività sostanziale e deve essere per il sistema ma anche deve essere svolta con perizia e anche con caratteristiche morali importanti soprattutto perché si usano soldi di altri spesso delle nostre parti c'è proprio per una questione di mancanza di tradizione una lontananza con il mondo assicurativo cioè il mondo assicurativo non è ancora pronto ad essere vicino alle aziende agricole e agli stessi professionisti del mondo agricolo in Trentino Alto Adige funziona e secondo me potremmo iniziare a svilupparlo proprio attraverso anche la mia presenza sul territorio anche dalle nostre parti Americo quali sono le difficoltà in cui si imbatte il tuo lavoro il mio lavoro diciamo sono sia un perito per le ricognizioni dei danni di avversità atmosferiche per quello che riguarda una compagnia di assicurazioni e diciamo il lavoro la parte più difficile del mio lavoro oggigiorno è quella che ci troviamo in maniera sempre più costante e pressante di fronte a tante avversità e tante calamità in parte i grandi esperti ci dicono che dovremo imparare a conviverci d'altra parte però bisogna anche che ci ci attiviamo sia con metodi di prevenzione che insomma ci possono facilitare per avere meno avversità e comunque meno disastri e poi anche noi dal punto di vista dei periti agrari questo può essere uno sviluppo di un futuro lavoro di una futura professione ecco quindi ci interfacciamo sia dal punto di vista professionale e poi anche dal punto di vista sociale perché comunque riusciamo a fare attività sul luogo sul posto sull'ambiente quindi ecco diciamo abbiamo un po' questa duplice funzione sia di consulenti e anche di attori di questa parte ecco come è cambiata la mansione e il ruolo del perito agrario negli ultimi anni allora la mansione diciamo che è stata sicuramente migliorata dalle varie tecnologie che abbiamo tutti a disposizione quindi possiamo essere più tempestivi più puntuali più precisi grazie appunto proprio alla tecnologia e quindi riusciamo ad essere ad interfacciarci meglio anche con il territorio che comunque rimane la parte quella più pratica ecco più dello specifico come avviene una perizia qualche step così da presentare allora la perizia avviene praticamente con una prima fase di ricognizione andiamo proprio sul posto e diciamo la nostra attività avviene nell'immediatezza successiva all'evento quindi una giornata dopo due giornate dopo dell'avversità e ci rechiamo proprio sul posto e iniziamo a fare i primi rilievi sia con la documentazione che abbiamo a disposizione di un'agenzia di assicurazione piuttosto che del fondo Agricat e poi iniziamo a fare insomma rilievi anche chiacchiere con gli agricoltori per capire insomma le loro esigenze e in qualche modo cercare un tentativo di conciliazione ecco per avere il più giusto risarcimento che si avvicini sia per chi ha subito un danno ma anche per chi lo deve risarcire quindi avere proprio un ruolo un po' di mediatori ecco qualche esperimento fatto di recente qualche progetto che è andato in attuazione negli ultimi eventi che si sono verificati nella zona no qualche qualche no di questo non ho adesso ancora strumentazioni particolari no ho visto che nel caso di alluvioni ossicità ad esempio riportando un po' la tecnologia si iniziano ad usare molto anche a livello di ricognizione e di stima i droni quindi ecco anche lì c'è un po' un accenno alla tecnologia e al futuro con il quale magari i professionisti devono iniziare ad interfacciarsi tecniche sempre più sofisticate sempre un po' più sofisticate abbiamo anche monitoraggi in campo centraline meteo insomma tutto quello che può essere di supporto per il nostro lavoro ecco in ogni ambito quello in cui noi ci muoviamo diciamo di quello che deve essere la garanzia della sostenibilità della quella che è la gestione di un'azienda agricola in tutti questi ambiti bisogna a mio parere avere sempre una visione d'insieme e lo dirà anche Marco dopo di me lo commentavamo prima cioè a dire abbiamo visto stamattina la prospettiva di ciascuno dentro la partita di gestione del rischio essere agricoltore oggi tanta passione tanto sacrificio mettere anche a rischio la propria attività però spinte da una gran passione è vero la variabile tempo è quella a cui bisogna sempre imbattersi e lo si sa dall'inizio che si intraprende questa attività però non ci si rassegna mai dopo un anno magari di lavoro quando siamo al momento della raccolta dei propri frutti con una situazione del genere come si è verificata nelle ultime ore sì è verissimo questo lavoro si fa per passione in realtà non si fa per altre motivazioni cioè per carità c'è anche quello ma prevalentemente per la passione perché con tutto il lavoro che ci mettiamo tutto l'impegno e tutta l'angoscia che ogni giorno quotidianamente subiamo con lo stress del meteo e delle variabili lo si fa solo per passione io sono almeno la penso così e credo che Gigi sia d'accordo con me sì è un lavoro che si fa con passione sicuramente era bello fino a qualche giorno fa andare in azienda vedere le produzioni tutto l'impegno quello che stava portando adesso fondamentalmente per me la grandinata venerdì è stato il danno principale esteso e che non avevo mai visto in tanti anni di attività più tutto questo eccesso di precipitazione è stata solo la ciliegina sulla torta ma era una torta di danni già ben guarnita precedentemente insomma quindi ci sono un sacco di variabili il meteo bisogna mettere l'incontro sono variabili i mercati i prezzi impazziti tutto nell'insieme la passione ce l'abbiamo ci piace tanto però ci sono anche dei problemi e chiaramente cerchiamo di risolverli adesso anche con queste possibilità di ristoro dei danni e di assicurazioni sono venuto qui proprio per capire se c'è qualche possibilità per ridurre i rischi di un lavoro che è sempre comunque molto a rischio questo è il corso è fiduciosa nelle nuove normative nelle nuove proposte di questo incontro? io lo spero sempre e le mettiamo all'opera e speriamo che questa cosa possa aiutarci però fino a che non le proviamo non possiamo dire nulla quindi è solo una speranza poi vedremo io sono molto semplice nel mio modo di parlare però sono anche un agricoltore che tende molto a guardare come è la situazione a osservarla e dopodiché riesce anche a parlare però certo noi speriamo in tutto questo mondo che l'agricoltura possa essere aiutata e che le istituzioni ci vengano incontro perché è fondamentale noi siamo tanto importanti per il mondo quindi per favore tra virgolette cercate di ascoltare l'agricoltore perché in questo momento è in grossissima difficoltà si è appena concluso l'incontro tenuto dal collegio dei periti agrari e laureati delle Marche un gran parterre grandi professionisti tanti spunti e modalità di gestione del sistema rischio dell'impresa agraria vi auguro un proseguimento di giornata con gli appuntamenti e i programmi di Fano TV e i programmi